A servire per Perugia, Kamil Rykliski, ancora Gapet, Bruno, Gapet, intanto Colaci, può rigiocare Rykliski, ballone che sbatte sul nastro, un punto incredibile, 3-0 per Perugia. Adesso in un certo punto la stessicata di nastro gli ha spostato la palla di quei 10 centimetri che sono stati fatali per il libero di Modena. Andrea Gianni è costretto a chiamare un time out per parlare.